I carabinieri del Rosso hanno arrestato ieri a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto il dottore, già primario dell'ospedale civico del capoluogo siciliano, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla direzione distrettuale antimafia, in cui fu indagato l'ex presidente della regione Toto Cuffaro e il figlio Mario Carlo. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Palermo. Giuseppe Guttadauro, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari e il figlio Mario Carlo, finito in carcere, sono accusati di associazione di tipo mafioso. Ai due viene contestata l'appartenenza alla famiglia di Cosa Nostra di Palermo-Roccella inserita nel mandamento di Brancaccio Ciaculli e l'intervento sulle più significative dinamiche del mandamento mafioso di Villabate-Bagheria. Nell'ambito della stessa indagine sono indagati, ma non destinatari di provvedimenti cautelari, altri soggetti palermitani, tre dei quali sono considerati affiliati alla famiglia di Palermo-Roccella e due, in concorso con Mario Carlo Guttadauro, di lesioni aggravate. Giuseppe Guttadauro era stato arrestato già il 22 maggio di vent'anni fa nell'operazione Ghiaccio e il fratello di Filippo Guttadauro, cognato del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dall'inchiesta sarebbe emerso che da Roma, dove si era trasferito dopo la scarcerazione avvenuta il 2 marzo del 2012, avrebbe mantenuto i contatti con l'organizzazione mafiosa di riferimento anche attraverso il figlio Mario Carlo, il quale avrebbe fatto da tre union con gli altri indagati. Nel corso dell'indagine è stato tra l'altro documentato l'intervento di Giuseppe Guttadauro per risolvere i contrasti che erano sorti a Palermo sull'esecuzione di lavori da realizzare in un'importante struttura industriale nella zona di Brancaccio. Le intercettazioni disposte nell'inchiesta hanno rivelato le aspre critiche da lui mosse verso le nuove generazioni di mafiosi, innescate dalla notizia della collaborazione con la giustizia di Francesco Colletti, uomo d'onore poi pentito. Guttadauro nei suoi dialoghi si diceva preoccupato per le rivelazioni di un altro pentito, Filippo Bisconti, e parlava dell'esigenza rappresentata apertamente al figlio di evolversi pur rimanendo ancorati ai principi di Cosa Nostra. L'ex primario avrebbe organizzato e gestito tra l'altro un commercio di droga con l'estero, finanziato da alcuni palermitani, aprendo un canale per l'acquisto della cocaina con il Sud America e con un albanese per il rifornimento di hashish. L'organizzazione avrebbe potuto contare su un assistente di volo in rapporti con Guttadauro, che avrebbe dovuto trasportare 300.000 euro in Brasile nel momento in cui il carico di droga dal Sud America fosse arrivato in Olanda.